Il riguardo attività è costituito da 5 sezioni, pagina master, layout, struttura tavola, animazione personalizzata e il cambio di appositive. In pagina master si definisce lo stile pagina che verrà usato nelle presentazioni. Impress contiene 28 pagine master predefinite, una di queste default e senza sfondo, mentre le altre ne hanno uno. In layout, 20 layout predefiniti vengono visualizzati, è possibile scegliere quello che si vuole, usarlo così com'è oppure modificarlo a seconda delle vostre esigenze. Attualmente non è possibile creare un layout predefinito. In strutture tavole, 11 stili di tabelle standard sono disponibili in questo riguardo. È possibile inoltre modificare l'aspetto di una tabella con le selezioni per mostrare o nascondere specifiche righe e colonne, o di applicare un aspetto di fasce colorate a righe e colonna. In animazione personalizzata è disponibile un lenco di varietà di animazioni per gli elementi selezionati. È possibile aggiungere l'animazione ad una diapositiva e può essere modificata o eliminata in seguito. In cambio di diapositiva, in questa sezione sono incluse 56 differenti tranzioni, compresa l'opzione nessuna tranzione. E' possibile selezionare la velocità della tranzione, lenta, media e veloce. E' possibile scegliere la tranzione, automatica o manuale, e la durata della presentazione delle depositive selezionate. Grazie.